Da oggi per quattro giorni a Termoli ci sarà il Wine Week 2022, un'iniziativa che intende celebrare pure al centro di tutto il vino a partire dalla degustazione, dalla tintilia, agli aperitivi, passando dal gustare anche il novello e le castagne. Ma andiamo a vedere. Siamo quasi pronti per scoprire quello che accadrà da qui a pochi giorni a Termoli, un programma in piazza, un programma davvero nutrito, ma è giusto che ne parli Michele Barilla, l'assessore al ramo interessato e vogliamo sapere da lui che cosa dovremo aspettare in questi giorni. Sì, stiamo per presentare la prima edizione della Termoli Wine Week, un evento che si pone come finalità principale quello di valorizzare uno dei prodotti cardini della nostra regione, delle eccellenze della nostra regione, ovvero il vino. Lo faremo attraverso una serie di appuntamenti con l'apertura e la presentazione del libro di Sebastiano Di Maria e terminerà quindi giorno 20, domenica 20, con la degustazione di vino novello e caldarroste in piazza Monumento. Quindi una serie di appuntamenti. Ripeto, la cosa importante è quella che per la prima volta Termoli realizza e concepisce una manifestazione tutta incentrata sul vino. Quindi per valorizzare questo prodotto che, ripeto, è uno dei motori trainanti dell'economia della nostra regione ma è sicuramente uno dei motori propulsori, se vogliamo, dello sviluppo turistico della nostra regione perché insieme all'olio e alla gastronomia il vino ricopre, credo, un ruolo fondamentale proprio come attrattore del territorio molisano. E quindi vogliamo proporre questa serie di eventi focalizzati appunto sul vino, sui vini autottoni molisani e non. E, ripeto, speriamo che sia naturalmente di gradimento per quello che sarà l'utenza naturalmente che verrà a beneficiare di questo evento. Grazie a tutti.